Previsioni meteo per martedì 8 ottobre. Al nord nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, instabilità diffusa altrove. Al centro nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, pioggia debole sulla dorsale laziale, coperto sulle regioni adriatiche. Al sud coperto con pioggia moderata, instabilità diffusa. Venti da forti settentrionali a moderati. Mari mossi o poco mossi. Temperature stabili.